D.C. avevo già detto in realtà, cioè lei ha qualche anno, tanto quanto ne ho io probabilmente, e si ricorderà che la storia della Prima Repubblica può anche essere descritta come una storia di scandali impergnati sulla D.C. Qualche socialista, qualche socialdemocratico, ma insomma essenzialmente democristiani, dal caso Montesi in poi. Benissimo. Eppure, più o meno turandoci il naso, gli italiani maggioritariamente votavano la D.C. Perché fatti i conti, ma non perché la Chiesa lo dicesse, per carità, non so quanto sia contato, non contava molto, perché i comunisti non potevano andare al governo, questo lo sapevano per primi i comunisti, ma perché maggioritariamente si capiva che i democristiani stavano facendo la cosa giusta, nella direzione giusta. Modernizzavano l'Italia, laicizzavano l'Italia, secolarizzavano l'Italia. I democristiani costruivano le infrastrutture, tentavano sulla base di fior di analisi e fior di intelligenze, di industrializzare il Sud. Poi si davano al malaffare anche, ma insomma, fatti i conti, il vantaggio era superiore allo svantaggio. La delegittimazione c'è quando dopo la morte di Moro non c'è più un progetto, cioè non si capisce più perché questi stanno lì e rubano. Come disse Berlusconi in una delle sue migliori gag, ma ve lo ricordate voi quando per fare qualche cosa bisognava andare dall'assessore con un assegno in bocca? Era vero, a un certo punto, se le cose sono così, ci si chiede, beh, quell'assessore lì, che funzione ha? I comunisti. I comunisti avevano smesso di esistere politicamente da un mucchio di tempo, non sapevano più nemmeno loro che cosa erano. Uno molto intelligente come Longo volle capire il 68, ma il partito non lo capì. I comunisti potevano esistere soltanto nella misura in cui erano il partito di cui vi ho detto prima, cioè il partito che in qualche modo socializza alla democrazia le masse che prima dell'Italia industriale non erano democratiche. le socializza, le porta dentro la democrazia, un partito pedagogo, un partito di inclusione pedagogica di massa. Quando questo è avvenuto gli sarebbe toccato governare. Cioè un partito si legittima non solo perché fa della pedagogia sociale e politica di massa, ma perché si candida al governo. Quando gli fanno fuori Moro, che era l'unico che gli aveva fatto balenare l'idea che si potesse anche in Italia pensare a un governo con dentro dei comunisti, il partito comunista italiano nel momento del suo più grande successo elettorale, prima metà degli anni settanta, è un partito che non sa più che cosa fare. Berlinguer è questo. E' la figura tragica di un nobiluomo, in tutti i sensi, che dice che il PC sta o al governo o all'opposizione. Famosa frase che non era una battuta, che voleva dire che non c'era spazio per appoggi esterni, cioè per la politica dell'emergenza che contraddistinse una parte degli anni settanta. Berlinguer è, quando dice, dopo la morte di Moro, o al governo o all'opposizione, vuol dire che sostanzialmente non sa che cosa fare del suo partito, che gli piacerebbe che stesse al governo, se ciò non è possibile, sta all'opposizione. Tanto è vero, che non sa che cosa fare, che si inventa, focalizza tutta la potenza politica del PC su qualcosa di sostanzialmente assurdo come la questione morale. Ora, che un partito, un terzo degli elettori italiani, votassero per un partito che vedeva come problema politico il rinnovamento morale dell'Italia, è un paradosso. È un paradosso perché un partito che vede come problema politico il rinnovamento morale dell'Italia è un partito rivoluzionario, democratico giacobino. Se c'è qualcosa che il PC non vuole mai essere, è un partito democratico giacobino, come l'esempio del partito d'azione, che è stato sempre sbeffeggiato dal PC come partito di inutile, il PC aveva perduto la propria ragione sociale, che avrebbe dovuto essere di impiantare in Italia una transizione verso il comunismo. Figuriamoci quanti comunisti credevano in Italia, credevano alla transizione verso il comunismo dagli anni Sessanta in poi. Nessuno, naturalmente. era un partito che aveva svolto, aveva giocato un ruolo che non era il suo, perché il ruolo di socializzazione delle masse di solito spetta alle forze borghesi, e invece in Italia le cose andarono diversamente, e dunque il PC, quando non solo non era il suo, ma non smise mai, questa fu la doppiezza, non di tramare per la rivoluzione, per carità, ma di definirsi comunista. Questi non erano socialdemocratici, ma proprio a essere larghi. E tuttavia si definivano comunisti e si tolgono di dosso questo nome dopo che cade, il giorno dopo, non il giorno prima, che cade il muro di Berlino. E questo è un errore. E questo è un errore che è così evidente che ci si chiede perché hanno commesso. E qui il perché è facilissimo. Perché le guerre mondiali pesano. La guerra mondiale è stata una guerra che ha formato, una guerra strategica, che ha formato un sistema internazionale. e lo ha formato dando vita e fiato a un esperimento politico probabilmente in punto di morte, cioè l'URSS. Fornendo una legittimazione fantastica al comunismo. Quello che, insomma, ha vinto la guerra contro il nazismo. E a quel punto era materialmente, storicamente impossibile per il Partito Comunista Italiano dire va bene, noi non siamo più comunisti, l'URSS è un modello indecente, rinunciamo al nome ormai impresentabile e impraticabile e facciamo apertamente il nostro mestiere di partito socialdemocratico. Il mito politico dell'URSS era invincibile, le masse comuniste non avrebbero mai e poi mai consentito un'operazione del genere. Tant'è vero che quando il comunismo è caduto nella vergogna nel 1989 dopo trentennio di agonia non di meno un terzo del Partito Comunista si è rifiutato di abbandonare il nome comunista. Tanto per dare un'idea. queste sono le coazioni della storia. Certo, improvvisamente col 1989-90-91 la inutilità palese dei partiti palese da dieci anni almeno ha potuto essere sanzionata giuridicamente dalla magistratura. Per la prima parte il caso di Longo poveretto e di Tanassi non era tipico anzi non capitava che i democristiani finissero in galera perché prima o poi le indagini venivano avvocate a Roma e la procura di Roma il porto delle nebbie le faceva sparire. E Moro che era Moro lo sapeva che nella rendita di posizione della DC c'era anche questo. L'altro giorno avete sentito dire tre o quattro giorni fa in Parlamento non ci processerete né nei tribunali né nelle piazze chi ha qualche anno l'ha colta la citazione i giovani non l'hanno colta non ci processerete nelle piazze lo disse Moro qualche giorno prima di venire rapito dalle BR sul caso Leone. La grande continuità dell'attuale regime rispetto al regime precedente sta solo in questa pretesa di impunità che i democristiani avevano i democristiani avevano legittimati dal fatto di essere gli unici legittimati a governare in Italia. Oggi questa legittimazione a questa pretesa si capisce un po' meno diciamo così ma Moro che non era un santo era un politico lo sapeva che alla DC apparteneva a questo noi siamo sopra la legge e questo per motivi internazionali quando i motivi internazionali vengono meno una o due inchieste vanno a buon fine non è mica tanto nel silenzio generale della magistratura si aprono una o due finestre sono sufficienti per far cadere un castello che non stava più in piedi oggi chiudo i partiti ci sono più di una volta più potenti di una volta non si fa nulla fuori contro senza i partiti in politica oggi in Italia i partiti sono ridotti a nulla sotto il profilo organizzativo solo perché le loro immense macchine per le quali rubavano sono state tutte allocate presso la funzione pubblica i dipendenti del PC sono diventati dipendenti dei comuni delle province delle regioni lo stesso dica sì quelli della DC eccetera il potere di interdizione di veto è più potente che una volta la società la società civile è più debole rispetto alla società politica oggi che non una volta certo i partiti oggi non hanno nemmeno la capacità di legittimarsi come socializzatori degli italiani alla politica le sede dei partiti sono vuote non sono piene perché questa socializzazione non avviene perché la politica non ha più bisogno di militanti ma non crediamo che ci siano liberati dei partiti ci siano liberati dei vecchi partiti democratici di massa oggi abbiamo una discreta quantità di nuovi partiti che hanno una capacità di blocco una capacità di influenzare l'allocazione delle risorse pubbliche se vogliamo adoperare un linguaggio politologico paragonabile a quella del passato ampiamente paragonabile ogni tanto salta fuori la cricca dei tali la cricca dei talaltri e che cosa quello e tutto ciò una volta si chiamava lo scandalo oggi si chiamano appunto con altri modi in altri modi perché questo paese non si scandalizza neanche più i partiti ci sono ancora sono ridotti allo stretto essenziale cioè controllare la dimensione pubblica di questo paese e sono più potenti che mai da noi non chiedono un voto a scatola chiusa non ci consentono nemmeno di scegliere nelle loro liste le fanno loro no? penso che la mia risposta sia stata esauriente è morto ciò che doveva morire ma sopravvive il potere dei partiti partitocrazia senza partiti sì è quella che stiamo vivendo oggi